allora signori belli noi iniziamo oggi che dobbiamo uccidere gli zombie e britch si av usap vabbè mo ci sono i tutorial vieni devi morir ma siamo pure di notte che bello ok possiamo spostare da te devi morir abbiamo pure il pompa di fucile abbiamo vinto? mo siamo in un piccolo garage e la madonna frate tutto a posto siamo con i fratelli amichi bagato tasto vabbù au au devi morir au è morto? ok signori di notte cucù spera fam ole voilà mi gira i coglioni quando eh con calma eh non ti avvicinare che si brutma fam tre ore no eh con calma perchè età ti stanno soltanto stuprando in settordici zombie però no con calma cioè perchè età vuoi un caffè intanto? c'hai boh no aspetta devo ricaricare ho capito entro oggi non entro domani scusa posso fare una cosa? sono morti devi morir ok mo siamo nella città ovviamente si va sul classico eeeh e beh è che fai bene aprire il bridge ovviamente io sto giocando col joystick perchè sto usando l'emulatore blue star che non l'ho capito perchè se ne va a destra qualche volta via no no questo dovrebbe prendere più la massa vabbè sai che c'è vabbè e vabbè devi ricaricare ogni arma? vabbè quanto mi fa girare i coglioni quando devi ricaricare ogni singolo e ma perchè te ne va a destra e ci si marat madonna santa eh io non ho capito perchè se ne va a destra cazzo su non ho capito perchè te ne vai a destra non ho capito perchè te ne vai a destra ma è veloce ricaricare madonna che palle che sto non baciate gli zombie morto eh e per carità tre ore a ricaricare c'è lì davanti gli zombie c'è roba è schifo quindi quindi quando la sopra vediamo come cazzo si chiamano cioè quando la sopra vediamo che è ok 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 devi morire e perchè te ne va a destra e perchè te ne va a destra con calma con calma con calma sempre con tutta calma che ricarica no devo velocizzare il come cazzo si chiama eh vabbò ha capo insufficiente e qui non la posso giocare più più che altro devo comprare come che si chiama devo comprare le le bombe a mano più che altro cioè io voglio le bombe a mano è giustamente tutto a pagamento le bombe a mano voglio mi servono per giocare le bombe a mano eh senti sicuramente cioè devo aumentare la ricarica quella poi ci sono pure questi che corrono veloce cazzo con calma eh quando vuoi eh sempre quando vuoi non ce li hai davanti a te gli zombie no no per carità non hai lo zombie che sta praticamente in faccia a te che è come se fosse tuo parente quando vuoi per carità sono in 16 no aspetta cioè tu giustamente dici cioè si vabbè ti puoi cioè perché tu giustamente dici vabbè ti puoi curare intanto che eh però poi finischi medikit eh 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 ma la missione è buona ovviamente ci vediamo prima quelli grandi che portano più soldi che cazzo è successo? ah ho capito quindi devo eh eh non devo far distruggere la macchina eh 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 sì penso di aver capito però c'è non è eh 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 però figlio mio come li sparo senza sparare la macchina stessa? come il come sparo senza sparare cioè come sparo senza sparare alla macchina? c'è capito cos'è che dico? c'è c'è capito cos'è che dico? come sparo agli zombie senza sparare alla macchina stessa? tu dici vabbè sparali già quando sarò lontani ho capito ma fino ad un certo punto cioè non è che c'è che sono tanti non è che posso cioè perché perché non è che hanno fatto la cosa bene e quindi c'è giustamente lì c'è oh se tu giocatore spari alla macchina la macchina non non si non crei danno alla macchina perché giustamente crea la macchina si danneggia si danneggia la macchina solo se la colpiscono loro cioè capito? non è che vabbè u si rompe la macchina solo se la se la colpiscono loro cioè si la macchina si danneggia pure se la colpisci tu cioè senti devo devo velocizzare la cosa di come si chiama la velocità di ricarica devi morì devi morì ah mo devo sparare a 35 zombie ok no esce il problema però il problema è che la ricarica più che altro ma ma con l'amico là dietro molto grosso il boss che verrà dopo tre ore eh con calma cioè non hai otto zombie davanti a te eh e mo abbiamo lo boss il boss si vabbè gli idie devi morì devi morì ah mo è ma è giustamente ah ci sono pure gli zombie piccoli giustamente ma io gli ma io gli creo danno ma io gli creo danno ok si giustamente pure così perché sono più rompipalle questi di sotto che questo qua grosso perché questo vabbè questo sta fermo tre ore e poi devi sparare poi devi sparare al braccio quando viene vedi tipo così cioè vabbè ricarica ovvio cioè sono più rompipalle questi di sotto e la ricarica soprattutto la ricarica mi rompe le palle che tu che tu non hai idea devi morì stai soffrendo eh è morto l'infame godo eh signori noi ci vediamo al prossimo video eh ovviamente noi questo gioco non so se lo porterò di nuovo seguitemi live su twitch vabbè questi sono tutti i miei social iscriviti e mettimi piace ciao